Contro la follia di chi vuole sostituire il nostro popolo con lo sciacurato Iussoli e un'immigrazione incontrollata che distrugge le nostre tradizioni e annienta il nostro futuro. Contro i bugiardi che hanno promesso di sconfiggere la crisi e hanno precarizzato l'esistenza di centinaia di migliaia di giovani lavoratori italiani costretti ad emigrare all'estero. Contro l'euro, contro la gabbia dell'Unione Europea da cui dobbiamo uscire il prima possibile, un meccanismo messo in piedi per distruggere l'economia italiana. Contro i finti rivoluzionari del Movimento 5 Stelle dovevano aprire il Parlamento come una scatola di tonno e in cinque anni non hanno fatto nulla e hanno cambiato idea su tutto. Contro la truffa del centrodestra, contro la truffa di chi dice che uscirà dall'euro con Silvio Berlusconi, il traditore che ha già governato insieme al Partito Democratico ed insieme a Mario Monti. Loro ti hanno già tradito, non puoi fidarti ancora. L'Italia è una grande nazione, costruita in 3.000 anni di storia e civiltà. Nei momenti difficili noi italiani abbiamo saputo unirci e combattere per difendere i nostri confini e quanto fatto dalle generazioni precedenti. Dobbiamo tornare ad essere una nazione libera e forte, una nazione dove per tutti ci sia un lavoro stabile, sicuro e ben pagato, dove ogni coppia possa permettersi di comprare una casa, dove ognuno possa far nascere i propri figli. Per realizzare questo progetto semplice dobbiamo riprendere il controllo della nostra moneta e della nostra economia, fare solo i nostri interessi, smettere di prendere ordini da altre nazioni e da organismi internazionali. Oggi l'Italia è in pericolo. Tocca a te difenderti. Questa volta vota più forte che puoi. Vota Casa Pound Italia.